Oriep, rettifiche interne ed esterne e piani di precisione. La dita Oriep si occupa da oltre 40 anni di rettifiche interne ed esterne e piani di precisione con personale qualificato, specializzati in grande serie con macchinari tradizionali e CNC tutte Morara. A seguire potrete vedere nel filmato alcuni dei particolari che eseguiamo.